Una punta sconfitta, un cos'altro che non riconosciamo? Hai giocatori molto importanti e ti possono far male, così è stato. Due gol fantastici, difficilmente evitabili. Quello che dovevamo fare meglio era non concedere quel tipo di partita all'Andrea che è molto grave a fare e di ripartire. Le ripartenze non fatte loro e questo può fare il gioco? No, ripeto, in questo calcio o sei una delle 4 o 5 squadre che può avere la gestione del gioco o devi fare delle cose diverse. Oggi l'Andrea ha un po' fatto il cosenza e ci ha messo in difficoltà.